Noi sindaci per quanto mi riguarda ci prenderemo tutte le responsabilità per poterla segnare subito, perché la gente ne ha bisogno nell'immediatezza, ne ha bisogno oggi, non domani, figuriamoci dopo domani. Devo dire che dal decreto per quanto mi riguarda non ci sono tantissime note esplicative, però l'idea che mi sono fatta io e come ho intenzione di morirmi tra stasera domani stasera chiameremo tutti i generi alimentari, cioè coloro che vendono generi alimentari per dare la disponibilità di aderire a questa operazione. Dopodiché individueremo le persone che effettivamente ne hanno necessità. Io la razza che leggo attraverso il decreto è quella di aiutare chi sta in difficoltà a secolo di questa epidemia. È ovvio che il decreto dice che è preferibile darli a chi non prende altri aiuti sociali, reddito di cittadinanza, cassa integrazione e così via. È anche vero che poi quando ci si scontra con la realtà ci sta anche i prenderi di reddito di cittadinanza di 70 euro, purtroppo questo ce lo dobbiamo dire. Quindi come sempre viene scaricato sui sindaci, ma credo che in questo momento non ci siano persone diverse che possano con immediatezza dare una risposta su questi punti. Non risolviamo il problema, diamo una boccata di ossigeno a delle famiglie che stanno in estrema difficoltà, ma ci vorrà ben altro. La mia idea, quello che sto attuando e da domani partirà dopo avere chiuso l'accordo con i negozi che daranno la disponibilità di dire questa iniziativa, è quella di mettere un numero a disposizione di chi farà richiesta e questo numero garantirà una certa discrezionalità, perché è giusto tutelare anche le persone.